Prima audizione in commissione per questo nuovo bilancio preventivo che sarà portato in consiglio, quali sono i punti salienti? Assolutamente un bilancio sano, si è fatto un grandissimo lavoro per analizzare tutte le problematiche tecniche del bilancio. Abbiamo risolto assolutamente tutti i problemi delle varie proroghe, analizzato le varie proroghe e abbiamo quindi fatto tutte le gare in tutti i settori. I punti principali sono questi, è stata eliminata completamente l'anticipazione di cassa che è stato il problema negli ultimi anni che aveva raggiunto delle punte del 14 milioni di euro di anticipazione di cassa, adesso il bilancio è sano, abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili, quindi il bilancio è sano, l'anticipazione di cassa è stata risolta, abbiamo mantenuto la quota sugli asili nido che è un vanto di questa amministrazione, di questa città e lo rimarrà. Quindi abbiamo ancora sottolineato che è una città per il bambino e per la famiglia. Mantenuto il sociale, sul sociale continueremo a dare le nostre assistenze a disabili, valutando progetti nuovi anche di assistenza in maniera diversa, non solo la mattina a scuola con gli essenti educativi, ma stiamo valutando anche i progetti eventualmente per il pomeriggio. Ci saranno fondi anche per il piano asfalti, quelli 1.350.000 euro? Finalmente rifaremo gli asfalti a Teramo, 1.300.000 euro circa di asfalti distribuiti per tutte le frazioni e il centro storico in maniera studiata secondo delle priorità dovute al traffico sulla strada e alla situazione del manto stradale. Ha fatto un ottimo lavoro l'assessore Valdo di Bonaventura, ringrazio tutti gli uffici, il piano asfalto sarà presentato nei prossimi giorni. Ringrazio gli uffici della ragioneria, la dottoressa Ferretti e tutto il suo staff per il lavoro meticoloso, certosino, fatto nel bilancio. Quindi restituiamo la città finalmente dopo diversi anni un villaggio sanissimo con ricapitolando aggipazione di Cassa Zero, mantenimento sul sociale, mantenimento degli asili nido e soprattutto finalmente dove si passa da zero a 1.300.000 euro per gli asfalti.